Un'occasione per stare assieme e per riscoprire le bellezze anche storiche del territorio. Parte questa domenica a partire dalle 15 la tradizionale festa campestre al passo dei Meloni a Bagnolo di Sogliano dell'associazione Pro Rubicone presieduta dal professore Paolo Turroni. Un fitto programma di appuntamenti caratterizzerà la giornata dall'arte alla letteratura passando dalla bellezza del paesaggio vero e proprio palcoscenico della storia antica. Nel corso del pomeriggio inoltre saranno premiate le poesie urgonautiche e verrà assegnato il titolo di Argonauta 2018 a Renzo Bagnolini, presidente della Centrale del Latte di Cesena, come personalità del territorio impegnata in campo economico. In aggiunta tra le diverse esposizioni e revocazioni storiche e geografiche sarà presentato il volume San Martino, edito recentemente dall'associazione Pro Rubicone di Calisese nella persona del fondatore Rino Zofoli. In particolare vorrei sottolineare l'aspetto di un libro che verrà presentato in quell'occasione che mette in risalto la storia antica, l'evangelizzazione avvenuta nel terzo secolo al mille nella zona del territorio. In risalto le chiese dedicate sia la chiesa di Calisese chiamata San Martino in Rubicone prima del mille e quindi è una prova anche del nostro discorso storico che portiamo avanti, poi la chiesa di San Martino in Bagnolo e abbiamo voluto aggiungere anche le altre due chiese che sono sul territorio del Savio, San Martino in Fiume e San Martino in Appozzo che è vicino a Sarsina.